Ma guarda che sei venuto un po' vicino eh Sai che hai toccato il muro, bro Abbiamo anche un paio di Arizona, però Ma mia donna? Ah, un anno e 8 mesi Tu? Clea Clea Sì 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 Ok, per la fine, tranquillo È un tipo, un soggetto, meno intelligento Dopo il sole ti spiega un attimo che funziona Sì E siamo qui con Lef Spacca su, posto, che è proprio tipo studio Però non so se era troppo alto Era un po' altro, però Ok, è un po' altro È un cane Non c'è talla sulla mia testa Loro vorrebbero vedermi sole senza fresco cane No, non si può, stavo a voli in mezzo ai punk a bestia, ok oggi no Super Great Beats